Ma cazzo è morto! MAGIA! Ma cazzo è morto! Ciao Cristina per tornare nel canale Ce l'ho fatta a portare anche la Cristina nuovamente Ah, hai quattro assi per la precisione Guarda, vado a mostrarti il primo asso che è l'asso di fiori Ok? E dammi la tua mano Mettila così, come a pinzare Figlio l'asso di fiori e te lo metto qua Ora figlio la seconda carta che è l'asso di picche e vado a mettere anch'esso qua però lo metto sotto sopra sotto sopra sotto sopra te lo metto sotto Aspetta, a memoria tua quale asso è sotto e quale è sopra? picche sopra picche sopra e sotto fiori picche sopra e fiori sotto bravo e mano tua? adesso ci voglio farti un gioco di magia con solo quattro carte giusto? puoi vedere anche te che sono solo quattro carte ora Cici io prendo la prima carta che è un asso di picche e lo voglio mettere in mano tua fai così, come a pinzare e l'asso di picche va qua stringilo bene forte poi prendo la seconda carta che è un asso di dillo pure tu? fiori ok e lo vado a mettere sotto no sopra sotto 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 a memoria tua che carta è sotto e che carta è sopra allora qui è asso di picche e che asso di picche cazzo 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 è male magia magia comunque bravo da magia ciao ragazzi bentornati nel mio canale e bentornati nella sezione tutorial quest'oggi vi insegnerò un effetto di magia molto semplice molto forte di impatto molto veloce e molto difficile da capire partiamo subito innanzitutto ci servono quattro carte a me piace utilizzare i quattro assi ma la scelta sta a voi potete utilizzare quattro cappa quattro donne va benissimo qualsiasi carta io utilizzo questo ordine qui ovvero rossa nera rossa nera potete utilizzare anche nero rosso nero rosso che è uguale e facendo così l'effetto sarà di maggiore impatto nulla vi vieta di mettere magari le prima le due rosse e poi le due nere o prima le due nere e poi le due rosse però se sfalzate l'ordine dei colori il gioco risulterà di impatto maggiore voi mostrate le quattro carte allo spettatore dicendo che farete un gioco con quattro assi e quando andate a chiudere prendete un break fra la seconda e la terza carta dopodiché girate le prime due carte come se fossero una e gli dite che la prima carta è un asso di picche ma in realtà voi ne avete girate due mostrate l'asso di picche e dite allo spettatore di porgervi la mano facendo questo gesto qui come a pinzare la carta dopodiché rigirate e dite l'asso di picche lo metto in mano tua in realtà voi avete appena messo l'asso di cuori dopodiché dite allo spettatore che girerete la seconda carta cosa dovete fare semplicissimo con il pollice spingete in basso la prima carta con il pollice della mano sinistra mentre col pollice della mano destra indice e medio andate a pinzare seconda e terza carta e le portate su per lo spettatore per chiunque vi guarda voi avrete girato la seconda carta ma voi in realtà avete girato la seconda e la terza carta dopodiché appunto vi mostrate l'asso di fiori e gli dite che anche l'asso di fiori andrà nella sua mano il fatto di fare sopra sotto sopra sotto serve per far distrarre lo spettatore perché nel mentre voi farete quello lì lui sarà talmente concentrato a vedere dove voi state andando a posizionare l'asso che escluderà ogni qualsiasi possibilità che voi abbiate fatto qualche movimento strano qualche double lift o cose del genere per questo questo effetto è molto veloce molto forte perché non lascia allo spettatore il tempo di riflettere e il fatto che voi andate a dire lo metto sotto e lo appoggiate sopra questo farà credere allo spettatore che voi abbiate sbagliato che lui sia stato più furbo di voi nel vedere dove avete messo le carte quindi poi a questo punto voi gli dite a memoria tua quale asso è sopra e quale è sotto lui sarà convinto che voi abbiate sbagliato mettendo l'asso che è sotto sopra e quindi vi dirà l'asso di fiori sopra e l'asso di picche sotto e voi bravo sei stato attento però questi assi sono nella mia mano non nella tua la tua mano cosa hai? boom asso di cuore asso di quadri e qui chapeau l'importanza di mettere gli assi sfalzati è proprio questo che vi ritroverete voi con gli assi neri e lui con gli assi rossi o viceversa invece mettendo gli assi all'inizio del gioco naturalmente vi sto dicendo prima i rossi e poi i neri vi farà sfalzare gli assi e secondo me questa è una versione mia personale non ha il solito impatto non è forte come il fatto di avere i colori invertiti bene ragazzi anche questo video tutorial è finito spero vi sia piaciuto se così è stato mettete un bel like se vi è stato utile scrivete un commento almeno a me mi fa piacere e che dire ci vediamo in un prossimo video ciao ciao